Senatore Massimo Bitonci, perché la Lega Nord ha protestato in aula? Ieri è successa una cosa incredibile che hanno tentato di tenere sotto traccia. Un emendamento del Movimento 5 Stelle, pubblicizzato con tanto di conferenza stampa, ha abrogato in commissione il reato di immigrazione clandestina. Io penso che questa sia stata una cosa vergognosa. Ci sono stati i voti anche del PD, di scelta civica, ma anche di molti del PDL. Noi ci siamo subito opposti. Già ieri abbiamo fatto sapere la nostra contrarietà e oggi abbiamo deciso di fare una proposta formale in aula, bloccando i lavori, verso l'una e mezza. Abbiamo rappresentato con dei cartelli, ma anche occupando i banchi del governo, la nostra posizione, che è quella che non si può assolutamente abrogare il reato di immigrazione clandestina in un momento così delicato, quando ci sono milioni di persone che cercano di venire nel nostro territorio. È una cosa pazzesca e ci batteremo, come abbiamo fatto oggi, anche nelle prossime settimane, perché questo reato di immigrazione clandestina, che è stato introdotto con la normativa dell'ex ministro Maroni, venga introdotto con un nostro emendamento in aula. Nei cartelli si leggeva sicurezza no, clandestini sì, pensioni no, clandestini sì, che cosa volevate dire? Che questo governo, con la manovrina di ieri, non ha finanziato la cassa integrazione per circa 300 milioni, però ha tagliato i criteri di virtuosità ai comuni, ha utilizzato i fondi che vengono utilizzati per le famiglie colpite da fenomeni mafiosi e in più ha messo 200 milioni di euro per il fenomeno dell'immigrazione. Noi pensiamo che la gente deve cominciare a ribellarsi e dire che questo governo, invece di pensare a indulti, alla clemenza e al reato di cancellare il reato di clandestinità, pensi invece alle nostre famiglie e alle nostre imprese.